L'architetto Antonino Collura ha ritirato le sue dimissioni. Il sindaco Lucio Greco l'ha spiegato ieri sera durante la seduta di Question Time del Consiglio Comunale rispondendo all'esponente di Fratelli d'Italia, Sandra Bennici. L'avvocato è ritornato sul caso dei due dirigenti comunali che nelle ultime settimane hanno presentato le dimissioni. Greco ha però voluto scindere le due posizioni. Nel caso dell'ingegnere Grazia Cosentino ha parlato di una scelta personale volontaria. Ha anche detto che è da voci che arrivano. Sembra che il dirigente voglia intraprendere un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore. Greco però invita Cosentino fino a quando manterrà l'incarico a mantenere un atteggiamento consono al ruolo, così ha detto. Sembra quindi che il rapporto tra il primo cittadino e l'ingegnere Cosentino, che è anche RUP del progetto per il servizio rifiuti, non sia recuperabile. Con l'architetto Collura invece c'è stato un chiarimento, lo ha spiegato proprio Greco. È stato affrontato anche il carico di lavoro, che pesa proprio sul dirigente. Collura ha assicurato che proseguirà e ha ritirato le dimissioni. Il sindaco ha voluto precisare inoltre, anche per rispondere ad alcune osservazioni mosse dall'ingegnere Giovanni Costa nelle sue dimissioni, di non aver mai avuto scontro litigi con il presidente della SRR4 e con l'amministratore delle impianti SRR per quanto riguarda la vicenda del servizio rifiuti. Per il consigliere Bennici però il sindaco non ha detto la verità. Sui casi dei due dirigenti e dell'ormai ex assessore Giovanni Costa, secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, il sindaco appunto non dice la verità. Ha scelto di salvare Collura, secondo il consigliere Bennici, e di rinunciare all'assessore Costa. Il consigliere ha rilanciato sul documento presentato da Costa, ma anche sul contenuto delle dimissioni dell'ingegnere Cosentino. Sappiamo tutti, ha detto Bennici, in che condizioni ha ridotto il settore lavori pubblici anche a causa della precedente gestione. Per il consigliere quindi il sindaco avrebbe deciso politicamente di coprire le vere ragioni degli addi del dirigente Cosentino e dell'assessore Costa, praticamente sacrificandoli. Anche la demma Alessandra ha spinto affinché Greco parlasse in aula proprio delle dimissioni di Costa.